Buona giornata, sento, la ricordate di me? Sì, sei stato con Garibardo. Ehi, avete fatto la guerra? Ah, avete fatto la guerra. Mago, ma hai me vinciuto. No! È fatto Garibardo! Ma che sei asciutto pazzo? La vita, capì? I Garibaldini l'hanno acceso tutta la famiglia. O vogliono se muore e fa. Ah, non ci stanno neanche i soldi, ma si accattano un bicchiere di vino. Amma peggi prima. Garibardo. Ma. Scusate, Don Salvatore, ma come paghiamo? Con quali denari? Sono due mesi che ci avete dato in terra e non abbiamo ancora fatto un raccolto. Avemmo fatto appena una semina con quello che costa nessuno. Enzo, con che cazzo paghiate? O pagate! O la terra vi sarà confiscata! E così voi la riscattate! E diventa a vostri o vedi? Sentite, voglio di gravata solo. Io sono venuto qua perché ho visto la disperazione nella gente mia. Avemmo fatto la rivoluzione. Perché si avevano promesso la repubblica. Invece hanno cagnato un re con un re. S'hanno riempitato i capelli. E che si hanno rata? Tassi. Carcio. Fammi. E ci hanno fatto più schiavi prima. Ma noi ci avevamo ribellato. Contro questo destino. Dobbiamo combattere contro queste ingiustizie. Ma dobbiamo combattere come dei veri soldati. Dobbiamo costruire un esercito. Un esercito fatto di disperati. Disfruttati, di lavoratori traditti. Ma non sei in basura. No. Assieme a noi ci sta chiesa. Che da questo governo è stata umiliata. Infangata. E poi ci sta un re nostro. La corona. Che tornerà a governarci. Quando avremo cacciato l'invasore. Io ordino dunque che su tutto il territorio infestato da bande brigantesche venga applicata la legge marziale e che nelle zone occupate viga il diritto di rappresaglie. Quali onore eccellenza sono i vostri ordini. Siete già a conoscenza degli ordini. Non voglio nessun tumulto a Napoli. Napoli è una città pacifica. Qualche testa calda l'abbiamo già acquietata. Ma 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 dovreste nominare qualche delegato di polizia in più? Gente fidata. Gente nostra. Va bene. Li aprete. Per ora non possiamo farne a meno. Poi li spazzeremo via. Non credo che sarà facile signor generale. L'ordino che tutto il bestiame sia confiscato. Convogliato nei grandi centri e sorvegliato. Tutta la farina, l'olio, il vino, il formaggio, tutto. Voglio che sia sequestrato assolutamente tutto. Colonello, fate stampare il bando e provvedete alla sua esecuzione. Generale, mi permetto di farle notare che in tal modo distruggeremo la sola economia delle zone. della valle. Signore? Prendete con voi un reggimento. Occupate il paese ed esercitate il diritto di rappresaglia. Sulla popolazione. Sulla popolazione. di te. E' un reggimento. Fuoco! Don Guetta! Ma dov'è? Ma qua. E' tempo di seminare. Seminare. Addo. C'è cosa? E' terra so' stata bruciata. I figli a fucilata. Noi tenimmo solo da stena o briganti o emigranti. Stato a Vapur. di te. La terra nostra è non già da toccare